Questa è la piazza grande, la plaza grande, questo è il palazzo del governo, ci andiamo a lavorare un pochino per quanto riguarda la foto con Correa, chissà, anche se proverò ad entrare e direi, ma posso fare la foto con Correa? No, 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 no quelle belle chiese da fuori non come quella brutta di andata e cose del genere vedete piove ascoltate parole tipo c'èvere 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 si si oh che c'èvere in perù si usa questo si usa però la c'èvere o bacana anche se bacana è più cileno e peruviano c'èvere c'èvere oh che c'èvere e non tante belle cose mi vado a riparare dalla pioggia oggi è una giornata un po' così come tutte le altre ciao